Nella serie 6C sono presenti alcuni pacchetti software che migliorano e semplificano l'utilizzo quotidiano del trattore. Sulla leva dell'inversore è presente una ghiera che consente di adattare l'aggressività dell'inversione in base al lavoro svolto. Si hanno cinque posizioni tra le quali scegliere che permettono inversioni dolce, ad esempio quando si movimentano dei carichi, oppure molto decise quando in campo si predilige la velocità di manovra. Dopo più di 15 anni di esperienza, la funzione stop and go, che permette di arrestare e far ripartire il trattore con il solo pedale del freno, si arricchisce di nuove modalità di utilizzo. Nei modelli RV-Shift è possibile scegliere tra un joystick tradizionale e uno advanced, con tre jolly buttons completamente programmabili, una ghiera per regolare la velocità del cruise control e una memoria a giri motore aggiuntiva. I jolly buttons sono pulsanti che nascono senza un comando associato predefinito, ma sono programmabili dal operatore in base al lavoro che sta svolgendo. Ai pulsanti è possibile assegnare svariati comandi, come ad esempio l'inversione, i distributori, i comandi sullevatore, l'avvio della guida automatica, eccetera. Nelle versioni RV-Shift abbiamo tre pulsanti programmabili, mentre nelle versioni TTV, due. Il Comfort-Tip, presente nei modelli TTV, è un software che permette di memorizzare comandi o sequenze di comandi e richiamarli successivamente premendo un pulsante.